Sarà la sala conferenze Silvio Petrone della BCC di Battipaia a ospitare venerdì 4 agosto la quarta edizione del premio Atleta Battipaiese. La manifestazione ideata da Paolo De Vita, direttore responsabile del sito Spunti Appunti e organizzata in collaborazione con Carmine Galdi del quotidiano online Battipaia 1929, intende premiare giocatori, giocatrici e società sportive di Battipaia che si siano messe particolarmente in luce in questa fetta di 2023 e nei mesi conclusivi dello scorso anno. E' la quarta edizione dell'Atleta Battipaiese che è una cerimonia di premiazione organizzata da Battipaia 1929 che è un sito quotidiano online di Battipaia con Spunti Appunti, rivista sportiva online diretta dal giornalista Paolo De Vita. Lo scopo è quello di premiare gli atleti e le società che si sono distinte nel corso dello scorso dell'anno 2022 e dei primi sei mesi dell'anno 2023. Noi riconosciamo una targa giusto per dare simbolicamente un messaggio di rilevanza sportiva a chi porta il nome di Battipaia sia in ambito nazionale che internazionale. Per anno premiati gli atleti e anche società sportive di Battipaia che si sono contraddistinte dalla seconda metà dell'anno scorso fino praticamente ad oggi. Un atleta per ogni disciplina sportiva con l'unico distinto ovviamente tra ragazzo e ragazza, tra atleta e atleta, atleta e donna. E quindi saranno circa 25 i premiati tra atleti e società sportive. Per quanto riguarda le società sportive c'è la ginnastica artistica battipagliese, così come pure la battipagliese calcio, la squadra di basket femminile che è stata promossa in Serie A1, e le due squadre di pallavolo, maschile e femminile, che hanno ottenuto risultati nelle rispettive categorie. Per quanto riguarda invece i singoli atleti, la guest star della serata sarà certamente Peppone Grimaldi, l'indimenticato pivote delle casse rurali campane e polisportiva battipagliese, che contribuì in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie B2, proprio quest'anno che cade il trentesimo anniversario dell'evento che galvanizza tutto il Palazzauli. Grazie.